Ok ragazzi, iniziamo. Allora andiamo a fare questa coreografia, non è particolarmente tecnica, non è particolarmente veloce, non ha dinamiche assurde, ma si basa su una musica italiana. Quindi cerchiamo di trarne vantaggio a livello interpretativo, quindi l'interpretazione, in modo tale da godercela un po' di più, ma è super facile, super tranquilla, quindi non vi spaventate, seguitemi, perché troverete nella descrizione non solo il link delle donazioni, ma troverete anche tutte le velocità in cui sarà spiegata questa coreografia, quindi lenta, medio, veloce. Quindi nel caso in cui siete in difficoltà, perché parlerò troppo veloce, ci sarà una sezione in cui andrò super lento, medio e a tempo. Detto ciò, iniziamo. Ah, una cosa vorrei ricordare, il video è specchiato, infatti lo leggete, se non vi sbaglio, in quella situazione lì. Quindi non vi preoccupate di eseguire la coreografia a specchio, perché già è girata a vostro favore. Iniziamo con la gamba destra, quindi facciamo uno, salto sinistra e caldo sul due, per tornare e fare tre, per fare de, si, de. Quindi ho fatto, de, si, sto, su, giù, de, si, de. Da qui ho tre, pace, e faccio pace, pace, mi giro. Questo è, e, e, tre, vado, pom, pom, qua. Per fare, gamba de, vado in mezzo punta, mi giro diagonale destra, incrocio, talloni, incrocio sinistra, mi giro. Da qui parto, scalcio sinistra e destra, faccio un bellissimo round, e mi fermo un attimo qua. Quindi ho fatto, u, e, du, e, tre, e, e, qua. Tre volte, ci, e, sei, carica. E, sei, e, o, e, uno. Scalcio sul due, quindi sto due, da qui scalcio di nuovo destra, sinistra e faccio tre, e, appoggio quattro, sinistra, destra, sinistra, tre volte, de, si, de. Quindi, capo fatto, uno, e, due, e, tre, e, e, qua, vado, ci, e, sei, e, se, e, o, e, uno, giro, due, vado, tre, e, qua, e, ci, e, sei, e, de, si, de. Come vedete, braccia sono molto libere, tranne per questa parte in cui sono qui, dove spingo, come voglio, libero, 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 musica qua fa wow, sono wow, talloni, giro sinistra, da qua braccia carica, noi fanno su, giù, spingo quando faccio un rondo con la gamba a destra, tolgo braccia, la mia canzone fa mi scusi, mi scusi, per fare si, de, de, si. Da qua, pensa di portare delle buste della spesa e fare desi, de con le braccia super tese, per fare, de, si, de. Da qui che sto, parto, rond, di nuovo, per fare, tallone, ginocchio, quindi ho fatto, sei, e, otto, queste, uno, due, vado gamba a destra dietro, tre, e, qua, corsetta, de, si, de. Manco mai ricordo, penso. Quindi ho fatto, ce, e, o, queste, o, do, queste, tre, e, e, qua, e, vado, de, vado, si, vado, corsetta, si, de. Quindi, sono qui, ho fatto, tre, e, qua, si, de, de, si, stai, de, si, de, questo sarà il mio, uno, due, vado a destra, tre, e, e, qua, e, cinque, sei, destra, sei, e, otto. Lancio gamba, uno, e, due, di nuovo, rond, tre, mi giro e faccio, e, e, quattro, finisco semplicemente e faccio, come voglio, sinistra, destra, carico, la musica fa, bass, 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 posso caricare qua, e farne tre, posso caricare qua e fare tre, ho tre battiti liberi. Musica fa, scratch, nel mio scratch la mia partenza mi fa fare, e, qualsiasi cosa che voglio posso imbattere, posso togliere, posso finire come voglio. E ho un sette e otto, fine. Quindi da capo abbiamo fatto, uno, e, due, e, tre, e, e, quattro, vado, cinque, e, sei, carica, se, e, o, e, uno, braccia. Due, e, tre, e, quattro, e, cinque, e, sei, destra, se, e, otto, appena, ricordate appena appoggio questa destra parto, perché non sarà otto, ma sarà otto. Per partire sul uno, due, vado, tre, e, e, qua, e, destra, sinistra, corsetta, tre, e, volte, vado, u, e, due, giro, tre, e, quattro, vado, cinque, vado, sei, libero, sei, e, otto. Ricordate sempre che gli ultimi tre sono liberi, quindi li farò ogni volta in maniera differente, quindi ricordate che una volta che vi siete girati qua, ho un cinque, ho un sei, e ho, preparo, libero, sei, e, otto, come voglio, sei, e, otto, sei, e, otto. Yep. Adesso proviamo lenta di nuovo, media, e proviamo a tempo. Cinque, sei, piano, sei, ho queste, ho, e, due, e, tre, e, e, quattro, vado, cinque, e, sei, e, ho, e, uno, due, e, tre, e, quattro, e, cinque, e, sei, e, sei, e, e, otto, parto, o, due, tre, e, e, qua, e, ci, e, sei, e, sei, e, o, e, o, e, o, e, due, e, tre, e, qua, libero, ci, libero, sei, carico, sei, e, o, forse, media, cinque, sei, sei, o, vado, o, e, due, e, tre, e, e, qua, e, e, ci, e, sei, e, sei, e, o, e, un, due, e, tre, e, qua, e, ci, e, sei, destra, sei, e, parto, o, due, destra, tre, e, e, qua, e, ci, e, sei, e, sei, e, o, e, un, e, due, e, tre, e, qua, libero, ci, libero, sei, carico, sei, e, o, veloce cinque sei e ci sei o e un e due e tre e e qua e ci e sei e sei e o e un e tre e qua e ci e sei e sei e o un do destra tre e e qua e ci e sei e sei e o e un e due e tre e qua mi giro ci sei carico sei e o musica il problema off cancobulma scusa vegeta scusa fuma e faccia cerchi in lega se cerchi in lega fa meglio che cerchi in lega sono avvolto dalle nubi vedo volte visi musi chiedono che droga usi credono Jimmy sia nubi ma io sono un tipo easy per chi mi ha preso mi scusi faccia porca della spesa e baby lascia che l'aiuti guardiamo scary movie mangiamoci dei cookies oppure dei funghi nudi percorre e mangiare non lupi vedo rappere un po' confusi e mo come la chiudi scubi dubi dubi ma il problema dove sta a un amico che ce l'ha un servizio come siamo? allora lo so che non è la stessa cosa di stare in classe ma stiamo offrendo la stessa occasione per cercare di fare la mano a mano a casa in modo tale da essere tutti più vicini in questo periodo prendo fiato in tutto ciò ok adesso dopo la parte scubi dubi dubi c'è un momento super libero dove solo le mie braccia fanno questa sequenza o e e do e e tre e e quattro siete liberi di girare di passeggiare avete quattro conteggi per fare desi 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 forse quindi ho fatto sei e otto libero da qua ho un mio quattro uno e e due e e tre e e quattro le mie gambe fanno calcetto calcetto cado e mi porto la gamba su quindi ho fatto libero e libero e libero e libero ho de de cado per fare rimbalzo rimbalzo quindi vengo da u e due e tre e qua mi giro cinque sei carico sei e otto libero u e e due e e tre e e qua calcetto c e sei e sei e otto sul mio e il mio polso gira e la mia gamba si chiude dalla gamba destra quindi sinistra chiude a destra e fa su questo è il mio e vado u e due le mie gambe fanno u e due sul mio due il mio busto cade dietro e fa due sono qui ho fatto u e cado due per dire tre quattro braccia fanno tre come dire no no per fare dire po aspetta per fare braccia vanno in questa posizione vado cinque e sei poggio mano sinistra sulla coscia sinistra e giro due volte in faccia sette otto questo sette otto è libero sono qui ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto tre e qua non è vero sette otto e queste e due queste tre e quattro vado cinque e sei quindi la mia mano sinistra va due volte dietro bom e bom il mio braccio è lì la mia gamba destra fa step e step faccio perno sulla sinistra e giro due volte giro giro adesso posso sia chiudere in contrazione sia rimbalzare sulle gambe l'importante è che faccio due piegamenti le mie gambe piegano due volte giù giù sono qui e piego e faccio perno piego piego e ho finito come volete quindi sono qui pace 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 libero o e e do e e tre e e qua destra ci e sei cammino sette otto carico e u e due tre e qua e ci e sei giro sette o da capo pianissimo cinque sei se o queste o e due e tre e e qua carica ci e sei e se e o e o do e tre e qua e ci e sei destra se e o parto o do vado tre e e qua e ci e sei vado se e o e o e due e tre e stai qua come voglio carico sette otto libero o e e e e tre e e qua destra ci e sei e se o carica o e do e tre e qua e ci e sei e giro e giro medio cinque sei ci se se o e o e do e tre e qua e ci e sei e se e o e o do e tre e qua e ci e sei e se e o o o do tre e e qua e ci e sei e sei e o e o e due e tre e stai qua libero ci libero sei carico pace 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 libero o e due e tre e qua destra ci e sei e se e o carica o e do e tre e qua e ci e sei giro sei o proviamo a tempo c sei sei o o e due e tre e e qua ci e sei sei e o e o due e tre e qua e ci e sei e sei e o e un due e tre e e qua e ci e sei e sei e o e un e due e tre e qua libero c e sei carico base space space libero o e due e tre e qua destra c e sei e sei e o e u e due tre qua e c e sei giro sei o forse musica qual è il problema scusa vegeta come faccio cerchi lega se cerchi la di fra meglio che cerchi lega sono avalto dalle nubi vedo volte visi musi chiedono che droga usi credono jimmy sia nubi ma io sono un tipo easy per chi mi ha preso mi scusi faccia porca della spesa e baby lascia che l'aiuti guardiamo scary movie mangiamoci dei cookies oppure dei funghi nudi pecorre mangiando i lupi vedo rappere un po' confusi e mo come la chiudi scubi dubi dubi ma il problema dove sta un amico che ce l'ha un servizio buono fa lo stesso di un'estate fa attento alle autorità se ti chiedono come va tu digli che sei qua solo per una visita mamma dice non si fa casa mia non è un hotel io l'ho detto e vabbè beh dimmi dove è la spa viaggio come Elon Musk come è andata? lo so tanto all'apparenza sembra tutto difficile ma non lo è in realtà quindi seguite passo a passo la coreografia è stata insegnata super veloce ma abbiamo tutte le parti che ci servono in descrizione quindi lenta media veloce quindi nel caso in cui non ho capito qualcosa torno indietro e la rivedo metto pausa e cerco di capire quali sono le dinamiche e quello che succede quindi niente panico siamo qui per questo e stiamo facendo proprio questo progetto per voi quindi qualsiasi dubbio avete un video quindi nessuno mentirà torno indietro anzi in questo caso sarà torno indietro e vado nel punto che mi interessa detto ciò è facile quindi non c'è da dire tanto non c'è una storia quindi non vi devo raccontare chissà che cosa ma c'è la libertà di divertirsi e sentirsi felici mentre si si danza ok quindi la canzone non ha un messaggio chiaro in questo momento per quanto riguarda il motivo per cui l'ho montata ma è l'idea di divertirmi con dei passi e seguire il vibe della musica ok quindi lasciatevi trasportare da quello è una cosa molto importante il feeling che è attribuita a questa canzone e che cercate di di inserire all'interno dei passi cercate di sentirlo proprio e di non riprenderlo da qualcun altro né tanto meno da me quindi cerchiamo di io dico sempre questa cosa che il feeling non si può insegnare ma si può condividere in questo momento quindi l'unica cosa che possiamo fare è condividerla con questa canzone e e ovviamente ognuno a suo modo che altro? vi ricordo sempre il link in descrizione che trovate in basso qui qui questa zona qui che è il link delle donazioni che troverete anche sul sito ma lo troverete qua direttamente sul link che vi sia aperto del video quindi andate sotto in basso in descrizione e troverete il link delle donazioni con il link ovviamente di tutte le velocità della coreografia spero vi sia piaciuta è stato bello essere qui non ci sono mai guarda casa e quindi yo ciao a tutti grazie buona visione buono continuo riunione con voi scusa vegeta scusa vegeta scusa fumo e faccio cerchi in lega se cerchi la diffra è meglio che cerchi in lega sono avvolto dalle nubi vedo volte visi musi chiedono che droga usi credono Jimmy sia nubi ma io sono un tipo easy per chi mi ha preso mi scusi faccia porca vedere la spesa e baby lascia che l'aiuti guardiamo scary movie mangiamoci dei cookies oppure dei funghi nudi pecorre mangiando lupi vedo rappere un po' confusi e mo come la chiudi scubi dubi dubi ma il problema dove sta a un amico che ce l'ha un servizio buono fa lo stesso di un'estate fa attento alle autorità se ti chiedono come va tu digli che sei qua solo per una visita mamma dice non si fa casa mia non è un hotel io l'ho detto e va bene grazie a tutti